Siamo in compagnia di Mr. Guido Pagliuca, la vigilia di questa gara con la Sampdoria. Possiamo dire sicuramente un'altra gara difficile, ma questa è la Serie B. Non c'è una partita semplice, però ecco contro la Sampdoria a storia, a tradizione, a società importante, sicuramente sarà molto arduo il compito, però non impossibile. Una partita difficile come sono tutte le partite di questo campionato, è logico che abbiamo bene in mente chi andiamo a affrontare, la forza sia della squadra che della struttura societaria, del prestigio della Sampdoria. Quindi partita difficile da affrontare con l'essenza, l'essenza del calcio, che è la fame, la voglia di lottare, di competere contro una squadra importante. Questo abbiamo toccato con mano in una settimana tra Modena e Pisa, quanto è importante per la nostra squadra avere quell'essere combattivo, quell'essere duro, battagliero, giusto? Quell'essere battagliero, quella voglia di lottare su tutti i palloni. Ecco, l'abbiamo detto anche in conferenza, non ci sarà il pubblico della parte dell'altra, sconfitta del calcio, diciamo sempre, perché bisognerebbe allontanare i cattivi, quelli che non vogliono avvicinarsi a questo mondo e lasciare invece solo i buoni, invece pagano tutti, quindi anche chi non ha fatto nulla. Sono d'accordo, sono d'accordo perché è un handicap per tutte e due le squadre, proporzionalmente per loro sicuramente di più perché manca gran parte del proprio pubblico, però anche per noi, perché manca la parte importante nostra che ci ha sempre sostenuto, ci ha sempre spinto e poi manca anche l'essenza del calcio che è il pubblico. Noi giochiamo per il pubblico, anche per il pubblico e il fatto che non c'è è un dispiacere enorme. C'è grande attesa, mister, per sapere un po' la condizione dei calciatori, perché gli infortuni soprattutto hanno colpito la difesa, anche se però i ragazzi, chi li ha sostituiti, ha fatto una prova importante. L'anno scorso non ce l'erano state queste infortuni, il campionato è diverso, quindi la Serie B è molto più fisica che fosse questo il motivo, perché preparatore è lo stesso, lei sta qui dall'anno scorso, il campo di allenamento è sempre lo stesso, i motivi? No, bene, c'è un trauma al ginocchio, distorsivo, però niente di grave, niente di… abbiamo escluso tutto quello che poteva essere lungo, è una questione di giorni e lo recupereremo. Andreoni è una questione un pochino muscolare, è il giocatore che da più tempo che ha le prese con questo problema, ma non riesce a trovare la soluzione per riuscire a allenarsi con continuità e per quelle che sono le sue caratteristiche, quello di allenarsi forte, quindi stiamo cercando di capire come risolverla al meglio. Ecco, la US Cup è che pian piano sta cambiando anche atteggiamento, perché se andiamo a vedere le statistiche, prima c'era un numero di falli abbastanza elevato, ora il numero di falli si è ridotto, addirittura nell'ultima partita hanno fatto più falli il Pisa che la US Cup. È una cosa su cui lei sta lavorando o no? Non facciamo il discorso di ammunizione, perché purtroppo quando la US Cup fa un fallo è ammunizione, quando lo fanno gli altri dopo 3-4 è ammunizione. È una questione di attitudine alla velocità del gioco della categoria, alla velocità dello spostamento del pallone, quindi degli smarcamenti degli avversari e anche un pochino anche al nostro modo di essere aggressivo o di cercare, perché alcune volte ci riusciamo, altre volte meno, di andare addosso all'avversario. Questo fa un pochino parte di tutto, penso un po' una cosa, un po' una, un po' una, portano a questa cosa qui, però pian piano si crea questa attitudine, questa abitudine a giocare questo tipo di partite e siamo un pochino più puliti, diciamo. Pian piano si stanno vedendo anche i nuovi, il direttore Lovisa non gli piace nuovi e vecchi, lui dice la Juve Stabia, però c'è qualcuno che sta facendo qualche apparizione in più come Maestro, che purtroppo poi si è fermato anche lui, quindi poi le chiediamo anche le condizioni di Maestro, ma ecco c'è l'artistico di turno, ci sono tanti che scalpino, proprio sull'artistico c'è una media importante, lui ha fatto un gol ogni 33 minuti di gioco, quindi è il bomber di questa Juve Stabia, però non dimentichiamo, io dico adorante, che proprio nell'ultima gara ha fatto un lavoro eccezionale per quello che mi riguarda, anche un po' si è surrogato con Candellone nel modo di interpretare la gara. No, no, sono stati bravi, sono stati bravi sia Andrea, perché ha lavorato benissimo per la squadra, veramente bene, sia Leo, Candellone che ha fatto tantissimo, e è stato bravo anche Gabriele artistico quando è entrato, perché ci ha dato dinamicità e questo sono tre giocatori che possono giocare anche tutti e tre insieme, quando ci sarà il momento che la partita lo richiede o che la squadra li supporta, quindi sono contento per loro come sono contento di tutti gli altri ragazzi, ha ragione il direttore quando dice vecchi e nuovi non ci sono, perché siamo una cosa sola e stiamo diventando una cosa sola sempre più amalgamata grazie all'aiuto di tutti. In conclusione le voglio chiedere un parere sul discorso del tifo, non ci sarà, lo dicevamo, però che cosa vuole dire alla vigilia di questa gara? Penso che loro in questo momento scalpiteranno, saranno tutti quanti poi davanti alla tv un messaggio che poi darà loro. Che insieme siamo più forti, anche se per questa settimana non possiamo perché tra virgolette ci hanno separato, abbiamo bisogno che da casa ci sostengano e con pazienza ci spingano come hanno sempre fatto. Grazie a tutti.